Noi cittadini abbiamo il potere sovrano, in virtù della nostra sacra Costituzione. Il tuo voto è come la goccia dell'oceano, che insieme ad altre può rappresentare un voto di rottura con il passato. La prima assunzione di responsabilità è di noi cittadini. Noi, della lista del popolo, vogliamo liberare l'Italia dalle catene della corruzione, degli impresentabili e dei poteri forti internazionali che imprigionano il nostro Paese. Ma senza il vostro sostegno sarà impossibile vincere questa battaglia durissima. In questa tornata elettorale il popolo italiano ha una grande occasione, quella di scegliere la Costituzione per dare uno schiaffo all'intero sistema di potere che ci schiaccia, non fare che sia un'occasione mancata. Io sono Maria Antonietta Morelli, candidata al Senato nella lista del popolo. Grazie. La Costituzione italiana è una vera opera d'arte, pari a quelle rinascimentali, spesso dimenticata. Con il referendum del dicembre 2016 il popolo italiano ha difeso la Costituzione. Aiutaci anche tu a continuare a difenderla. Il nostro programma è semplicemente scritto negli articoli della Costituzione, i quali permetterebbero l'equilibrio e la risoluzione dei problemi sociali. è ispirato agli altri ideali della cultura, della pace, della difesa dei beni comuni, della gestione del denaro per il bene del popolo e non per i profitti bancari. Aiutaci a trasformare l'Italia in paese neutrale e liberarla dalle bombe atomiche, a riformare il sistema bancario per risolvere il debito pubblico, a fermare la privatizzazione dei servizi pubblici essenziali, ad investire nella ricerca, aumentare i fondi nella salute e per l'istruzione. Coscienza, cultura, conoscenza sono i mattoni fondamentali per capire tutti i problemi e risolverli con logica e consapevolezza. Non affidare il voto ai soliti noti. Chi ha creato i problemi non è in grado di risolverli. Sono Fabio Maggiore, candidato alla Camera per la lista del popolo per la Costituzione. L'astenzionismo dilaga ad ogni elezione come giusta forma di protesta. Ma serve davvero non votare? L'astenzionismo è alquanto inutile se fatto per protesta. Il vostro non voto diventa semplicemente un vantaggio per partiti che non votereste e nemmeno a pagamento. Tutto è conteggiato sui votanti effettivi, non sugli eventi diritto al voto. In un periodo di grandi difficoltà e cambiamento, la cosa migliore da fare è informarsi seriamente e scegliere chi votare. Leggete il nostro programma su listadelpopolo.it Dovete preparare il vostro futuro, non subirlo da schiavi. Sono Alessandro Raccichini, candidato alla Camera con lista del popolo per la Costituzione.